Cap walk. Assumere una posizione, a quattro zampe, simile a quella dei gatti. Avanzare con una mano, e contemporaneamente con il piede del lato opposto. Facendo forza sui quadricipiti, e di glutei, spingi il corpo in avanti. Cerca di mantenere invariata la posizione della schiena. Ripetere il movimento con la mano ed il piede opposti. Procedi in avanti per quattro volte, e di seguito ripercorri il percorso a ritroso.